Buonasera a tutti e siamo qui ospiti della rivista Mediterranea e sono qui con Patrizia Asproni. Buonasera Patrizia. Buonasera, buonasera Maggie, buonasera a tutti. Ti conoscono un po' tutti ma ti voglio presentare con i tuoi titoli. Sei un'esperta di management culturale e di industrie creative, presidente della Fondazione Industria e Cultura e neopresidente della Fondazione Museo Marino Marini di Firenze. Inoltre chairman della piattaforma tecnologica europea Beni Culturali e co-chair della Joint Commission Italy-USA e Cooperation in Science and Technology on Cultural Heritage. Bene, questa era la tua presentazione. Poiché sei appunto presidente del Museo Marino Marini, prima ancora di addentrarci nella tematica di oggi, che è una tematica femminile, però io voglio approfittare per farti un paio di domande preliminari. Voglio chiederti, in relazione proprio al tuo incarico di presidente del Museo Marino Marini, ritieni necessaria in termini di tutela della salute la chiusura dei musei congiuntamente a quella di teatri e cinema. Cosa ne pensi del fatto che dopo essere stati stabiliti rigidi protocolli nazionali e regionali a seguito della prima ondata pandemica, che prevedevano misure di sicurezza molto stringenti, quindi ingressi calmierati, misure di distanziamento, visite tailor made, per cui erano considerati luoghi assolutamente sicuri, subito dopo, con la seconda ondata, sono stati nuovamente chiusi. Cosa ne pensi? Penso che questa sia stata una misura adottata in tutti i paesi, poi riaperti, poi richiusi in alcune parti, quindi è un tema molto dibattuto. Voglio invece dire che la cultura non ha mai chiuso, questa è la vera notizia, perché soprattutto durante la prima pandemia, ma anche durante questa seconda fase, la cultura è rimasta sempre aperta, è andata sul web, si è reinventata, ha creato cose nuove, ha voluto dimostrare di esserci, di essere forte e soprattutto di essere indispensabile. Io penso che la cultura sia stata estremamente generosa in questa risposta. Noi abbiamo potuto superare, credo, soprattutto il primo momento in cui c'era veramente una forte angoscia e anche una non conoscenza di quello che stava succedendo grazie alla cultura. Il fatto che tutti fossimo fuori dai balconi per cantare era un gesto di dimostrazione che la cultura è dentro di noi ed è importantissima. Gli artisti sono stati generosissimi perché hanno offerto la loro musica, le loro pièce teatrali, le visite guidate nei musei, le lezioni d'arte completamente gratis. E questo è stato un qualcosa di estremamente importante che dobbiamo leggere per quello che veramente è. E invece dall'altra parte abbiamo un problema di agenda, di governo che ignora in un certo senso la cultura o comunque non le dà il valore che la cultura merita. Perché io dico sempre che dare valore vuol dire avere valore, quindi se non si dà valore alla cultura, la cultura smette di avere valore. Allora la cultura deve essere inserita all'interno dell'agenda del governo in maniera trasversale. Perché la cultura non è quello che un giorno in maniera infelice ha detto il Premier qualcosa che ci fa divertire, certo è anche qualcosa che ci fa divertire, per fortuna, per fortuna riusciamo appunto a godere di questa cultura, ma non è solo quello, la cultura è economia, la cultura è turismo, la cultura è occupazione qualificata, la cultura è crescita, è coesione sociale, è sviluppo del paese. Allora se non si capisce questo poi non si spiega perché i musei, i teatri restino chiusi. Allora le cose devono come dire essere valutate certamente per quello che riguarda il pericolo per la salute, ma dall'altra parte va valutato anche il pericolo della salute psicologica e di quella salute culturale che è importante esattamente quanto quella fisica. Assolutamente, infatti hai anticipato, volevo proprio farti questa domanda, se tu avevi riscontrato diciamo una certa disattenzione governativa anche appunto nei proclami relativi al Covid per la cultura. Vorrei citare la frase di Renzo Piano che a sua volta ha parafrasato il filosofo francese Bernardo di Chartres. Noi italiani siamo dei nani sulle spalle di un gigante e questo gigante è appunto la cultura, una cultura che ci ha permeato, ci ha arricchito e ha appunto come dire strutturato la nostra stessa forma mentis, il nostro modo di pensare di noi italiani, quindi in Italia è particolarmente importante questo discorso. Quindi ti vorrei chiedere in relazione a quello che hai detto, quali misure potrebbero essere adottate e te lo chiedo anche come presidente anche di Conf Cultura, questo è molto importante. C'è un commento che mi fa rilevare che tu sei anche presidente di altre piattaforme che poi citeremo, però sei anche, questo è molto importante, presidente di Conf Cultura che è l'Associazione Nazionale delle Imprese per la valorizzazione e la promozione proprio dei beni culturali e del turismo culturale, nonché dell'innovazione tecnologica. E quindi in questo senso voglio chiedersi quali misure potrebbero essere adottate per sostenere le attività creative, ma non in maniera sussidiaria, diciamo come è stato fatto, ma proprio per far sì che le attività dell'intelletto e dello spirito diventino anche utili risorse economiche per il paese. Ma guarda, io faccio sempre il confronto con quello che sta facendo la Germania che penso per noi debba essere un benchmark, dato che comunque è una guida per l'Europa e c'è una donna alla guida di quel paese e poi ne parleremo anche di questo. La Germania ha stanziato per la cultura 50 miliardi di euro, ha stanziato questi 50 miliardi di euro non come recovery fund, quindi non semplicemente come un fondo per un paese malato che deve essere quindi guarito con delle medicine. Lo ha chiamato ignition fund, cioè un fondo di accensione, accensione di futuro. sostanzialmente, quindi un piano di 5 anni almeno in cui la cultura deve risorgere a seguito della pandemia, permeare appunto tutta la società nelle varie parti, quindi completamente, e ha dato questo tipo di sostegno che non è un sussidio, ma è appunto un fondo di accensione, un fondo di sviluppo, è un fondo a medio-lungo termine, è un fondo che ha una visione e che ha un futuro, c'è un programma, c'è un piano, c'è una pianificazione. La cultura tedesca quindi oggi può serenamente pensare a quando si uscirà dalla pandemia, che cosa si farà, ma anche a innovare in maniera tecnologica quello che appunto, approfittando diciamo di quello che sta succedendo, innovare in maniera anche tecnologica, perché innovazione non è solo tecnologia, ma approfittare di questo boom del digitale per fare cose nuove, per andare a vedere come si possono raggiungere più persone ancora, per essere ancora più inclusiva. Ecco allora questo è il sistema, quando io ho parlato di piano Marshall per la cultura, poi piano Marshall lo usano tutti in tutte le salse, giustamente perché è stato un momento importantissimo della storia del mondo, senza il piano Marshall, oggi forse non saremo qui. Ecco noi abbiamo bisogno in Italia di un piano Marshall per la cultura, continuiamo a ignorare che i fondi europei che ci sono stati messi a disposizione si chiamano Next Generation Fund, non si chiamano Recovery Fund, noi siamo ancora all'organismo malato, siamo ancora alla persona un po' anziana che deve essere ricoverata, questo senso ospedaliero, no, noi dobbiamo invece chiamarlo come appunto si chiama Next Generation, allora per la Next Generation culturale noi abbiamo bisogno di un programma a lungo termine, dobbiamo guardare lontano, lontanissimo per le nuove generazioni. Ecco, questo dovrebbe fare il Paese. Ancora una volta, se le cose stanno così come sono state presentate dai giornali, ma mi sembra che ci siano cambiamenti in corso, rischiamo di essere delusi da questo punto di vista e questo è inammissibile. Certo, l'Italia è anche un Paese ibrido da un certo punto di vista, se non si può contare sullo Stato, perché i finanziamenti pubblici sono sempre molto ridotti anche per le grandi realtà, non è neanche molto sviluppata la mentalità del finanziamento privato alle intraprese, ai progetti artistici e culturali, se non in minima parte. Ecco, appunto, come Presidente di Conf Cultura, che consiglio daresti per contro, quindi agli artisti, per cercare di rendere, nonostante i mancati incentivi economici e le scarse opportunità, diciamo così, meno bohemian, meno improvvisata la loro attività, come spesso accade, e più invece imprenditoriali. Ecco, da una parte posso consigliare appunto di essere più imprenditoriali, in un certo senso di essere più out of the box, uscire un po' fuori da quella che è l'autoreferenzialità, c'è molta autoreferenzialità nel mondo della cultura e guardare appunto a quello che sta succedendo nell'innovazione to cure. Ecco, quindi innovarsi. Tanti lo stanno già facendo. Ecco, questo deve essere un contagio positivo. L'innovazione deve essere un contagio positivo. Qual è il problema che noi abbiamo però dando questo messaggio di impresa? Abbiamo il grande, gigantesco problema nel nostro paese che si chiama burocrazia. Con la burocrazia non è possibile fare impresa. L'impresa è soffocata dalle leggi, dalle norme. Siamo il paese che ha più norme e leggi di tutti. È continuamente delle superfettazioni amministrative, legislative che ci soffocano anziché farci decollare. Anche questo è una parte inammissibile che mi piacerebbe vedere appunto nel Next Generation Program, perché sarebbe liberare appunto la voglia e le capacità imprenditoriali. Come fanno i teatri, come fanno i cinema, come fanno i musei ad essere oberati dalle mille pastoie burocratiche? Dobbiamo fare per esempio il piano triennale è anticorruzione e trasparenza. È qualcosa di assurdo. Siamo l'unico paese che ha la PEC. Gli investitori stranieri non entrano in Italia, non fanno le gare, perché quando leggono le nostre gare, anche se le fanno tradurre, e questo parlo per esperienza, non riescono a capire. Esatto, non le capiscono, ma non capiscono che nemmeno noi le capiamo. E poi siamo all'interpretazione continua. Quindi poi ci sono i ricorsi, ci sono i tribunali, c'è il TAR. Io mi ricordo una volta andai a trovare Antonio Paolucci, l'ex ministro, quando diventò direttore dei musei vaticani, e lui mi disse, vedi qua io sto benissimo perché non c'è il TAR. Ecco, aveva perfettamente ragione, nel senso che siamo un po' sovrastrutturati, impastoiati da questo. Allora, non possiamo dire alle impresa, sì impresa, se poi non la liberiamo appunto di tutte queste pastoie. E in questo modo anche la cultura può mettersi a fare impresa. Certamente. Veniamo alla tematica femminile. Il nostro paese non brilla neanche in tema di educazione alle differenze di genere. Il Global Gender Gap Index ci restituisce l'immagine di una nazione in cui la disparità di genere è tra le più accentuate in Europa. L'Italia continua a comparire nelle posizioni più basse delle classifiche internazionali e il rapporto World Economic Forum del 2017, in riferimento al Gender Gap, ci colloca addirittura all'ottantaduesimo posto. In particolare, per quanto riguarda le attività, le opportunità lavorative ed economiche, siamo al centodiciottesimo e al quarantaseiesimo per quello che è il political empowerment. e siamo il diciottesimo stato su venti nell'Europa occidentale, davanti solo a Cipro e a Malta. Questo per dare soltanto alcuni dati significativi. Tu sei una donna che è riuscita ad emergere, ad avere una brillante carriera manageriale. Cosa impedisce alle donne, che ne abbiano ovviamente le capacità e la preparazione, di fare altrettanto? Nella tua esperienza lavorativa, professionale, ti è mai capitato di essere in qualche modo ostacolata o peggio discriminata in quanto donna? Allora, intanto i dati che tu ci hai fornito poco fa, voglio dire, dicono tutto. Siamo agli ultimi posti, addirittura nel pay gap siamo veramente all'ultimo quasi posto in Europa. Per quello che riguarda l'eguaglianza di genere, siamo dopo il Burkina Faso, quindi abbiamo una posizione abbastanza agghiacciante da questo punto di vista, perché il nostro paese è rimasto fermo a un patriarcato che è pervasivo da questo punto di vista. Quindi con grande fatica le donne però stanno avanzando in tutti i settori. Il tema è il famoso soffitto di cristallo. Le donne, come abbiamo visto, anche in questa epoca Covid, sono state le protagoniste del caring, sono state le protagoniste anche proprio del superare questo momento, ma le donne non sono mai ai vertici, non sono ai vertici degli ospedali, non sono ai vertici della magistratura, non sono ai vertici della politica, non sono ai vertici delle aziende. Questo è un gap gravissimo. Le quote rosa della legge Golfo sono state molto positive e hanno cambiato e stanno anche continuando a cambiare le presenze nei CDA e tutto questo poi ha modificato anche certi atteggiamenti. Ma siamo ancora indietrissimo e lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo tutti i giorni in qualsiasi settore. Il pay gap è una delle conseguenze più tristi di tutto ciò. Dall'altra parte ci sono fiori di ricerche, una delle quali per esempio di Alberto Alesina, purtroppo scomparso uno dei nostri grandi economisti, che dava ad una crescita del 6% del PIL l'aumento delle donne nel lavoro. Quindi abbiamo, voglio dire, delle cifre incredibili che non prendiamo assolutamente in considerazione e questo ci dà la misura di quanto siamo arretrati. Quindi il gender gap è anche un gap generazionale e qui voglio mettere anche l'accento, cioè in questo momento chi occupa i posti di potere sono uomini di una certa età. Quindi le donne e i giovani sono queste maggioranze, le donne poi sono maggioranze, non sono nemmeno minoranze, voglio dire che comunque non riescono ad avere voce, non riescono ad emergere, non riescono ad essere visibili. Alla domanda che mi hai fatto se io nella mia percorso di carriera sono stata discriminata, io posso dire che una delle cose che ho subito subito è quella che viene definita mansplaining e che Michela Murgia ha ribattezzato in maniera secondo me eccellente, minchiarimento. Ecco, esattamente così. C'è sempre qualcuno che pensa di saperne più di te anche in ciò in cui tu sei molto più esperta. Ecco, questo è qualcosa che si incontra continuamente ed è anche questa una forma naturalmente di discriminazione e di diseguaglianza. Assolutamente. Nel termine fa ridere però è un qualcosa che tutti noi abbiamo provato. Per la verità però, secondo il Gender Gap Report del World Economic Forum, non c'è paese al mondo che abbia completamente sanato il divario di genere in tutti i domini della vita sociale, economico, educativo, sanitario, politico. Vorrei interrogarmi con te sulle cause di questo gatto. Si pensa che sia dovuto principalmente a insormontabili stereotipi di genere diffusi in diverse società, ovviamente non solo nella nostra, che influenzano molti processi sociali in modo discriminatorio. Ecco, diciamo, ovviamente questo influenza anche il giudizio sociale sulle donne. Le indagini psicologiche dimostrano che questi stereotipi hanno un'essenza comune, cioè che le persone basano le loro impressioni e valutazioni principalmente su due dimensioni, che chiamiamo, e che gli psicologi chiamano, agency e communion. La prima, attribuita agli uomini, secondo comuni, credenze stereotipiche legate ai ruoli sociali, diciamo, riguarda tratti di intelligenza, azione, competenza, attitudine al comando, mentre il calore, want o communion, che comprende le dimensioni dell'affettività, emotività, socialità, ma anche moralità, e possiamo aggiungere anche empatia, intelligenza emotiva, eccetera, sono chiaramente attribuiti alle donne. Secondo un'opinione diffusa, alcune donne, specialmente in ambito dirigenziale, che è il tuo ambito, tendono a mascolinizzarsi e ad assumere atteggiamenti e tratti agentiche, e quindi, diciamo, comportamenti stereotipici maschili. Questo genera un pregiudizio negativo e talvolta anche un'ostilità nei confronti di queste donne, mentre c'è una percezione positiva delle donne che aderiscono completamente allo stereotipo communal e del ruolo di genere femminile tradizionale. Si parla di WAW effect, cioè le donne, women are wonderful when, le donne sono meravigliose, ma soltanto quando si conformano allo stereotipo femminile, di genere femminile. Quando ne fuoriescono, sono un po' antipatiche, fa sorridere il fatto che hanno fatto anche degli esperimenti, cioè le donne addirittura è meglio se sorridono e se sono gentili, perché suscitano un'impressione, diciamo, più favorevole. Allora ti chiedo, cosa devono fare le donne per uscire da questa trappola? Non certo, immagino, mascolinizzarsi, però non credi che preservare i tratti, appunto, che abbiamo definito di communion, di empatia, rappresenti una specificità, in qualche modo un valore aggiunto? Cosa ne pensi? Penso assolutamente sì. Prendiamo come esempio quello che io ritengo, come dire, una delle figure più straordinarie di questo periodo, Jacinta Arden, la premier della Nuova Zelanda. Ecco, io credo che lei sia il vero esempio di che cosa può essere, anzi, deve essere un leader, quindi deve, come dire, coniugare su di sé entrambe, appunto, sia l'agency che il... Il comune. Assolutamente. Quindi, ma questo non è necessario che sia solo all'interno di una figura femminile e basta. Io credo che non si possono spazzare via in pochissimo tempo, non si può spazzare via in pochissimo tempo un pregiudizio che data millenni, direi, e che è basato antropologicamente all'inizio dei tempi sulla forza fisica e sul fatto che poi le donne facevano figli, tanti figli, tanti figli, quindi venivano indebolite, quindi i ruoli si sono poi incancreniti in quello. Oggi, che non abbiamo più bisogno della forza fisica perché abbiamo le macchine che usano la forza per noi, allora sta venendo fuori un altro tipo di attitudine, un altro tipo, anche se vogliamo, di essere umano, perché su questo noi dobbiamo concentrarci, sulla persona, sull'essere umano. Poi, le differenze fra un sesso e l'altro, fra uomini e donne, ci sono e ci devono essere e sono anche differenze sane, perché comunque sono delle particolarità che poi diventano complementari. Il problema sorge quando una di queste forze vuole sovrastare l'altra. Io dico sempre che in questo percorso di discriminazione dobbiamo anche capire che sono stati anche gli uomini ad essere discriminati. Io spesso sento pietà per delle persone che hanno delle attitudini da uomo che non deve chiedere mai e penso, ma povera creatura, voglio dire, ha avuto una lezione che veramente lo penalizza. Ma oggi le cose stanno cambiando, ci sono delle forti resistenze, perché il nostro è anche un paese molto anziano, l'Europa è un paese anziano. Vediamo appunto in questi nuovi, in questi paesi dove le generazioni, le next generation sono molto più numerose, le cose sono completamente diverse. Jacinta Arden è una leader, è una leader che ha una forza incredibile, una forza d'animo incredibile e che con l'empatia riesce comunque a portare avanti anche delle scelte che spesso non sono piacevoli e che spesso il suo popolo invece segue proprio perché lei è empatica nei loro confronti. È un modo diverso di pensare, ma non è un modo diverso esclusivamente femminile, deve essere un modo diverso di pensare per l'umanità. Ecco, siamo appunto persone, siamo esseri umani e questo è il salto antropologico che dobbiamo fare. Bellissimo. Le donne nel mondo guadagnano meno degli uomini, di media il 23% in meno, lo affermano i report delle Nazioni Unite, secondo cui il fenomeno è veramente il grande furto dell'umanità, della storia. E secondo, l'Ugender Equality Index, il nostro paese è ancora all'ultimo posto in Europa sul fronte del divario di genere in ambito lavorativo. Le donne hanno meno possibilità di occupazione e appunto anche stipendi inferiori. Avrei ascoltato l'intervento alle commissioni bilancio di Senato e Camera della sottosegretaria all'economia Cecilia Guerra che ha illustrato la relazione sperimentale sul bilancio di genere. infatti poi ti faccio una domanda su questo, messa a punto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. È emerso che il reddito medio delle donne rappresenta il 59% di quello degli uomini a livello complessivo. Il tasso di occupazione femminile in Italia nel 2019 è ancora molto basso, il 50,1% nonostante qualche piccolo passo avanti sia stato fatto, qualche sforzo diciamo. Il recovery plan potrebbe rappresentare un'opportunità unica in questo senso per colmare questo divario e offrire pari opportunità a uomini e donne. Quali sono secondo te i punti focali in cui dovrebbero essere investite le risorse pubbliche per colmare il gender pay gap? Intanto tutto questo voglio dire non riguarda solo le donne ma riguarda tutti, riguarda le famiglie e quindi riguarda anche gli uomini perché comunque in ogni modo se anche le donne venissero pagate così come sono pagate i uomini creerebbero peraltro un'economia circolare ancora e pensiamo voglio dire a tutto il mondo che ruota intorno a una donna che lavora che vuol dire asili che vuol dire babysitter che vuol dire scuola a tempo pieno quindi insegnanti che vuol dire anche tantissime altre cose evidentemente ecco allora tutto questo crea poi sviluppo economico per il paese se non si capisce questo però non si capisce tutto il resto quindi il problema non è semplicemente dare uno stipendio uguale alle donne che quello stipendio uguale alle donne crea appunto economia anche per gli uomini anche per la famiglia anche per la scuola anche per i bambini anche per il turismo eccetera 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 allora ripeto ci sono ricerche di fior di economisti che illustrano quello che si dovrebbe fare ma che non si riesce a fare e questa resistenza è semplicemente una resistenza di incomprensione del fenomeno evidentemente di totale incomprensione del fenomeno ma anche forse di una volontà di lasciare le cose come stanno perché poi noi stiamo leggendo appunto in questi giorni di covid che molte donne lasciano il lavoro perché altrimenti nessuno si occupa dei propri figli o delle persone anziane e quindi dei nuclei familiari quindi il caring ancora una volta è sulle donne allora quello lì è un lavoro è un lavoro che se lo facesse qualcun altro verrebbe pagato e in questo modo si creerebbe anche lì economia circolare se non abbiamo gli asili che supportano le donne non abbiamo bambini e infatti siamo il paese che ha la più alta denatalità d'Europa ogni anno perdiamo 400.000 abitanti appunto per perché non nascono più bambini e poi questo covid chissà come squilibrerà ancora le cose visto che abbiamo 60.000 morti quindi tutto questo deve essere completamente riconsiderato le donne devono essere aiutate ma ripeto non è un problema delle donne le famiglie devono essere aiutate le coppie devono essere aiutate gli uomini e le donne devono essere aiutati assolutamente una domanda forse un po' tecnica per i più però credo che sia un punto importante la sottosegretaria guerra ha sottolineato la necessità che i piani nazionali di ripresa e resilienza collegati all'uso delle risorse dell'Unione Europea includano il più possibile valutazioni degli impatti di genere il cosiddetto bilancio di genere che ricordiamo è un documento di bilancio che analizza e valuta proprio in un'ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari del governo e comunque di tutte le amministrazioni sia pubbliche che private e che persegue appunto la mission della promozione di un'effettiva e reale parità tra uomini e donne tra l'altro c'è stata una risoluzione del Parlamento Europeo del 2003 che poi è stata diciamo replicata ancora nel gennaio del 2019 e che invita proprio la commissione e tutti gli stati dell'Unione ad applicare i bilanci di genere appunto nei bilanci fiscali e tu pensi che nella tua esperienza sia nel pubblico che nel privato questi bilanci di genere siano una realtà ormai consolidata? Ma assolutamente no assolutamente no magari lo fossero voglio dire così come il bilancio sociale si è fatto strada con fatica e oggi è molto più accettato oppure il bilancio green è molto più accettato quindi per quello che riguarda il bilancio di genere siamo ancora veramente molto molto indietro ma tutto quello che riguarda il genere è molto arretrato nel nostro paese penso per esempio alla medicina di genere finora tutto quello che è stato sperimentato è stato sperimentato su corpi maschili sugli uomini le donne hanno altri altre biologie e devono essere trattate in maniera diversa anche qui soltanto adesso si sta facendo strada a questo concetto ma è un concetto importantissimo evidentemente così come ai bambini si danno medicine che sono più lievi perché naturalmente il loro fisico le sopporta in maniera diversa così le donne hanno un fisico diverso ecco allora c'è proprio un tema di considerazione della donna che deve essere completamente modificato nella sua interezza e quindi tutto questo fa parte di questo equilibrio di genere direi assolutamente spesso le donne madri sono costrette ad accettare lavori sottopagati in cambio di vantaggi in termini di flessibilità e di orari esiste un forte gap occupazionale abbiamo detto insomma questo è un altro dato interessante addirittura del 74,3% tra le donne con figli in età prescolare e donne che non hanno figli un sintomo evidente della difficoltà di conciliare la vita lavorativa e la vita professionale la vita personale la vita privata e anche le dimissioni volontarie coinvolgono e tu accennavi a questo tema coinvolgono addirittura il 73% dei casi evidente che come giustamente dicevi il lavoro familiare non retribuito che le donne fanno è parte del problema parte importante di questo problema proprio perché sono insufficienti le reti sociali di supporto è proprio quello a cui tu accennavi però vorrei che lo chiarissi è stata attribuita alla donna insomma se ne devono fare carico non soltanto le figure maschili all'interno della famiglia ma anche devono essere potenziate le reti di cura di supporto ma non soltanto per i bambini anche per gli anziani anche per i malati anche per i disabili tutte le fasce più deboli della popolazione da dove bisogna cominciare per creare questa rete sociale ma intanto bisogna cominciare dai tempi noi oggi abbiamo dei tempi che anche qui sono stati adattati a un sistema maschile a un sistema patriarcale l'uomo va a lavorare e torna la sera per trovare la cena pronta e i bambini voglio dire puliti lavati come si dice pronti per andare a letto e quindi come dire si può stare fino alle 8 di sera tranquillamente in ufficio a chiacchierare con i colleghi perché a casa c'è qualcuno che si occupa di tutto il resto ecco questo vuol dire cambiare completamente la società e già ce ne stiamo accorgendo guarda questo covid sta veramente portando i nodi al pettine anche i tempi voglio dire di movimento della società di mobilità di apertura degli uffici gli orari della funzione pubblica gli orari delle scuole hanno dei tempi che oggi non si conciliano più e questo è reso chiarissimo allora anche qui bisogna fare uno sforzo sociale da questo punto di vista cambiare completamente i tempi cambiare completamente poi i modi e quindi ribaltare completamente ciò a cui siamo stati abituati fino adesso pensiamo a quello che sta facendo lo smart working che da una parte può appunto facilitare il lavoro delle donne da casa ma dall'altra oggi le costringe a un lavoro ulteriore ancora perché i bambini che sono a casa e fanno la dad qualcuno li deve comunque seguire perché le strutture sono insufficienti a seguirli e questo non è più tollerabile così come non è più tollerabile che oggi essendo una coppia in casa il marito debba avere il salotto e la moglie debba avere lo sgabuzzino ecco questo non è più assolutamente tollerabile stiamo diventando sempre più pari malgrado malgrado appunto il concetto che ancora non lo siamo è vero torniamo al tuo ambito manageriale nel 2018 secondo l'ultimo dato disponibile dell'Inps le donne rappresentano il 17,6% dei dirigenti privati sono cresciute del 38% dal 2008 al 2018 a fronte di un calo del 10,1% degli uomini e tra i quadri le donne sono già al 29,9% non mi sembrano tanto male questi dati la rincorsa delle manager rosa come vengono chiamate continua quindi con forza e il peso che hanno tra i dirigenti under 35 del 31,5% e under 40 del 28,1% fanno ben sperare per il futuro sei d'accordo con la tua collega Luisa Quarta coordinatrice del gruppo donne manager manager Italia Lombardia che sostiene che le donne sono in continuo aumento d'anni perché tra i giovani entrano nel mondo del lavoro diciamo le donne hanno una preparazione pari o addirittura maggiore rispetto agli uomini ma anche per un miglioramento della cultura del merito e del valore della diversity nelle aziende e nella società oppure c'è ancora tanto da fare in termini di ne accennavi di work balance tra lavoro e vita domestica benessere produttività e competitività nelle aziende cosa ne pensi penso che questo dato che appunto tu ci fornivi è verissimo dalle università escono sempre più donne preparate che uomini c'è una forza completamente diversa e ripeto il digitale sta cambiando i comportamenti e produrrà dei cambiamenti epocali anche appunto nel gender balance sicuramente perché il digitale è un grandissimo aiuto per le donne quindi questa famosa mitologia del multitasking che appunto viene attribuita alle donne alla fine poi è vera nel senso che le donne riescono ad essere più flessibili ad adattarsi meglio ai carichi di lavoro familiari molteplici quindi tutto questo sta appunto come dire facendo virare la situazione pensa che una notizia di ieri mi sembra la sindaca di Parigi Anne Hidalgo è stata multata perché ha come dire provocato un squilibrio di genere al contrario ha messo troppi dirigenti donna e meno dirigenti uomini quindi addirittura lo sbilanciamento è del 40% e quindi è stata multata e anche lei si è sorpresa leggevo i giornali francesi di questo perché diceva beh va bene ma ho preso le più competenti ecco quindi è stato è quello che spesso ci viene detto quando abbiamo appunto gli uomini che occupano quei posti e le donne vengono invece lasciate lasciate fuori dalla porta che dicono sempre beh ma abbiamo preso i più competenti ecco sta succedendo questo per le donne senza quasi accorgercene in un certo senso ovviamente non da noi noi siamo indietro noi siamo indietro ecco questo è un discorso che vale per il resto del mondo il resto d'Europa noi siamo appunto in mezzo a come dire a quella parte bassa della classifica ecco ci trovano sempre nella parte bassa della classifica un anno fa circa già hai lanciato nel web l'hashtag Boycott Manels che ha avuto tantissima risonanza perché poi è stato rilanciato insomma Twitter Facebook Instagram fino a diventare virale e ultimamente è tornato in auge ma non che abbia mai smesso di esserlo però insomma c'è stato un po' diciamo intanto che cos'è per quei pochi che non lo sappiano insomma è un invito a boicottare gli all male panels cioè i panel di soli uomini e a rifiutarsi di partecipare sia come relatrici che come spettatrici a convegni conferenze eventi pubblici in cui le donne non abbiano una rappresentanza sostanziale o addirittura come spesso accade siano proprio ignorate ultimamente ti dicevo è tornato in auge come sai bene per il convegno che si è tenuto il 30 novembre sul ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile organizzato dalla fondazione Unipolis che prevedeva la presenza di sei relatori uomini e di una sola donna in veste di presentatrice all'inizio all'inizio Unipolis ha dato una spiegazione un po' sconcertante alle proteste dicendo che la gender balance non era il tema non era il tema dei dibattiti anche se poi si sono scusati hanno introdotto una diciamo una relatrice e poi e questo mi ha fatto un po' sorridere la presentatrice è stata promossa al ruolo di keynote speech voglio chiederti siccome non possiamo pensare che questa tra virgolette dimenticanza delle donne sia voluta sarebbe gravissimo ovviamente e certamente non è da ricondurre come dicevamo alla mancanza di donne preparatissime in qualsivoglia argomento e quindi è una consuetudine è un habitus un automatismo ti chiedo intanto le cose come stanno andando con il gruppo insomma con l'hashtag e ti sembra che le cose stanno cambiando dopo questo fermento esattamente a cosa dobbiamo ricondurre questo cattivo costume della dimenticanza ma intanto il gruppo è su facebook ed è appunto hashtag boycott managers stiamo quasi a 5.000 iscritti diciamo membri del gruppo ma la cosa positiva del gruppo è che è molto vivace è molto presente è molto agguerrito ed è incredibile quante segnalazioni arrivano di panel di soli uomini ovviamente l'azione del gruppo ha davvero cambiato l'atteggiamento nel senso che molti mi telefonano per esempio mi mandano messaggi per dirmi ah ecco stavo organizzando appunto un convegno in una conferenza immediatamente mi sono ricordato che devo ho ricordata perché capita anche alle donne questo che devo invece come dire bilanciare la presenza delle donne e anche le donne che si rifiutano per esempio di essere presenti come relatrici quando sono le sole relatrici cioè quando chiaramente la sua presenza è un'operazione come viene definita di pink washing chiamiamo una donna perché ci vuole ecco poi chiaramente scelgono sempre la più competente e la più competente oggi si rifiuta anche invece di essere presente e di sedersi al tavolo con soli uomini quindi poi questo sta cambiando le cose abbiamo avuto anche degli uomini che hanno fatto dei gesti da questo punto di vista di boicottaggio o comunque in ogni modo di non partecipazione di diserzione uno è stato il ministro Provenzano che appunto nel convegno che aveva proprio fatto nascere i boicottmanels come gesto appunto di denuncia di assenza della presenza femminile aveva deciso di non partecipare al convegno lo ha fatto ultimamente Gianni Cooper l'ho invitato ad un convegno dove erano solo uomini e devo dire che gli organizzatori mi hanno scritto dicendomi ci siamo resi conto solo adesso che non ci sono donne e quindi rimediamo e hanno inserito quattro donne appunto nel panel quindi non solo una per pink washing ma hanno capito che mancava proprio una voce femminile che sarebbe stata invece importante anche per l'argomento quindi sta crescendo moltissimo la coscienza molti reagiscono in maniera violenta con insulti della serie ma fatevi fatti vostri oppure ma che cosa volete noi chiamiamo quelli più competenti ecco e adesso noi diamo dei nomi offriamo dei nomi degli elenchi lo hanno fatto peraltro e voglio segnalarlo anche le rebel architette che hanno compilato un elenco di mille nomi di donne architetto a disposizione di chi vuole appunto utilizzare la loro professionalità l'ho fatto una ragazza sarda a Bruxelles con Brassel Binder appunto un database gigantesco che sta crescendo sempre di più appunto di donne di varie professionalità che si iscrivono a questi elenchi proprio per non essere più invisibili perché questo è il tema se le donne non vengono invitate ai convegni nessuno sa che esistono e quindi si perpetua questo circuito vizioso che poi le esclude più le donne diventano visibili più allora vengono chiamate è un sistema di cooptazione che finora ha funzionato per gli uomini tantissimo si sono sempre cooptati fra di sé adesso anche le donne si cooptano e questo è molto importante ma soprattutto fanno cooptare e quindi anche qui stiamo spazzando via pregiudizi di secoli alle donne non amano le donne le donne non vogliono essere con le altre donne le donne sono gelose invidiose delle altre donne tutte balle ecco questo è chiarissimo le donne oggi stanno promuovendo le donne e questo è un segnale molto 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 importante di crescita di consapevolezza quindi hai creato un bel fermento diciamo davvero in un'intervista a Sardinia Post hai dichiarato come si fa a non capire che l'assenza delle donne rappresenta l'assenza di un punto di vista di un modo di vedere la vita e di interpretare i fenomeni che rappresenta la metà se non di più del mondo della popolazione mondiale ti esprimo un altro punto di vista che credo di aver colto ieri che ascoltavo anzi guardavo in tv un'intervista alla stilista di fama internazionale Elisabetta Franchi e che quando l'intervistatrice ha esordito dicendo lei è una donna che si è affermata in qualche modo anche io ho esordito così con te una donna che ce l'ha fatta lei ha risposto in maniera lievemente seccata già il fatto che si dica una donna non ha aggiunto altro io ho creduto di interpretare questo che ovvio che non si può pensare che la presenza femminile sia in se stessa in toto diciamo possa rappresentare un punto di vista univoco su un determinato argomento o che una donna sia portatrice con la sua sola presenza di una specificità di genere ci sono anche delle donne che magari non sono preparate o che sono anche delle brutte persone eventualmente d'altra parte insomma sarebbe anche se dovessimo pensare che una donna rappresenta per esempio il communion quindi uno stereotipo insomma anche questo dobbiamo cercare di spazzarlo via come dicevamo non deve essere più un attributo esclusivamente femminile l'accoglienza l'empatia e poi vogliamo pensare che ogni donna sia una libera pensatrice e quindi diversa da un'altra donna ma non per individualismo ma mi piace citare diciamo la frase bellissima di Alberto Acanfora una convivenza delle unicità quindi quello che voglio chiederti è questo benissimo creare un balance quindi una rappresentanza paritaria ma è un passaggio assolutamente necessario ma è soltanto un passaggio per poi avviarci verso una società come i giovani ci stanno insegnando un po' più individualistica in senso buono dove ognuno rappresenta se stesso Elisabetta Franchi ha avuto perfettamente ragione a dare quella risposta abbiamo visto ultimamente i titoli di giornali da questo punto di vista abbastanza come dire che ci rendono perplessi in cui professioniste di valore che assumono incarichi a livello mondiale vengono definiti una donna una donna è qualcosa di generico non rappresenta la persona quando la professionalità è la professionalità della persona ad aver guadagnato appunto quel tipo di successo quindi lei è una stilista lei è una imprenditrice non è una donna voglio dire i nomi definiscono le cose definiscono anche le persone lei è una persona che ha ottenuto quel tipo di successo grazie alla sua professionalità non perché è una donna ecco in questo senso lei ha fatto benissimo a reagire sul discorso che tu facevi all'inizio avere team di lavoro misti uomini e donne tutte le ricerche dicono che assolutamente aumenta la produttività quindi anche questo è un altro tipo di balance che è assolutamente importante perché ha un fine perché ha un obiettivo non perché è fine a se stesso il giorno in cui noi non distingueremo più voglio dire un uomo da una donna all'interno di una professione all'interno di un premio letterario all'interno del Nobel per la chimica eccetera eccetera significa che avremmo raggiunto veramente la parità sì esatto intendevo proprio questo è un passaggio necessario ma è comunque un passaggio sì gli studi rivelano che il sessismo linguistico nella comunicazione politica medializzata è ormai ampiamente utilizzato anzi direi proprio anche incancrenito faccio una piccola parentesi perché stavo leggendo prima un commento di una persona che ci guarda che specifica la tua qualifica di chairman della piattaforma tecnologica europea beni culturali tu confermi questa tua qualifica però credo che la sua osservazione riguardi proprio il mio termine chairman perché forse riguarda proprio ciò di cui vorrei parlare adesso quindi al limite dovrei dire chairwoman e me ne scusa e ti chiamo chairwoman però ecco il linguaggio di genere insomma è un argomento molto importante la declinazione al maschile di molte cariche istituzionali è interpretato come una chiara indicazione della cristallizzazione delle relazioni di potere asimmetriche che ovviamente privilegiano gli uomini ultimamente è stato è girato parecchio ne parlavamo io e te insomma questo contributo di Vera Gheno la sociolinguista nel suo blog Valigia Blu sui nomina agentis allora lei si chiede chiaramente ironicamente Antonella Polimeni è il nuovo magnifico rettore della sapienza o è la nuova magnifica rettrice o è il nuovo magnifico rettore donna ha fatto un altro esempio di Stefani Frappar è arbitro arbitra arbitro donna eccetera insomma abbiamo capito di cosa stiamo parlando Vera Gheno ha anche scritto un libro su questo si chiama femminili singolari sono contenta perché la intervisterò proprio in questa sede il 27 dicembre la stimo moltissimo che è un dibattito molto acceso in Italia anche sul web questo spesso significa acceso sul web spesso significa violento vi cito perché mi fanno sorridere alcune come dire alcune frasi di dissenso rispetto alla declinazione femminile dei nomi i femminili sono cacofonici architetta ricordatetta lo dico perché tu prima hai parlato di architette presidenta non si può sentire non uso il femminile perché non esiste ecco insomma poi ci sono quelle che qualcuno considera delle derive come l'asterisco alla fine dei nomi o della schwa per neutralizzarli in qualche modo allora ti chiedo Patrizia cosa ne pensi la parità di genere può passare anche attraverso la grammatica beh assolutamente sì assolutamente sì anche questo è uno sforzo che dobbiamo fare il fatto che i nomi declinati al femminile che peraltro sono stati approvati anche dall'Accademia della Crusca vengano percepiti come cacofonici la dice lunga non siamo abituati a sentire i nomi al femminile pensiamo soltanto per esempio alla differenza che fa nella percezione parlare di una segretaria o di un segretario una segretaria è una figura secondaria la figura di qualcuno che serve in ufficio il manager diciamo così è di come dire è collaterale il segretario quasi sempre è un incarico molto prestigioso molto importante ecco se anche qui la finissimo voglio dire di definire le cose in questo modo come dire faremmo giustizia in qualche modo quindi il linguaggio si sta evolvendo la lingua italiana si sta evolvendo è una delle lingue più antiche quindi è anche una lingua come dire più restia al cambiamento ma stiamo andando verso quella direzione evidentemente nel mondo si parla sempre più inglese che sta diventando appunto la lingua della comunicazione mondiale anzi l'ho già diventata probabilmente quindi come dire sarà interessante vedere questo tipo di evoluzione ma in questo momento è fondamentale che le declinazioni siano anche al femminile per restituire alle donne appunto anche la loro dignità dall'altra parte ci sono come dire anche delle evoluzioni dovute al digitale come per esempio il fatto che usiamo sempre di più gli emoji per dire ecco e quindi forse facevo una battuta prima torneremo ai geroglifici per esprimerci anche il web è un ambiente ostile alle donne si stanno diffondendo sempre di più questi fenomeni insomma di body shaming ace speech anche gender erasement e specifiche forme di aggressività online soprattutto rivolte alle donne dagli studi emerge che i post delle donne suscitano maggiori reazioni emotive rispetto a quelli degli uomini e questo sarebbe sempre come sempre dovuto a un'attivazione dello stereotipo di genere le donne sembrerebbero essere maggiormente bersagliate cioè sembrerebbero essere maggiormente bersagliate proprio quelle che non aderiscono allo stereotipo femminile quelle che ne fuoriescono in qualche modo per esempio le donne di successo le donne intellettuali esiste anche un gruppo sulle donne che leggono se gli uomini odiano le donne che leggono insomma in favore invece di quelle che ricoprono diciamo ruoli tradizionali che risultano sicuramente più simpatiche come dicevo prima meglio se carine e sorridenti ecco ritieni che le donne paghino anche in questo ambito la non adesione al fattore communal e a te è capitato in quanto manager di pagare la tua uscita e quindi tu hai dei tratti agent necessariamente quindi ti è capitato di pagare questo quindi la tua evasione dallo stereotipo femminile tradizionale beh il web il web esacerba naturalmente quello che già esiste nella società e quindi le reazioni sono quelle che poi esistono e che come dire nelle loro funzioni estreme raggiungono poi il femminicidio raggiungono la violenza appunto il body shaming tutto quello che sta succedendo quindi è chiaro che le donne come dire si è spostato il luogo del bersaglio delle donne ecco da quello fisico anche a quello appunto online a quello virtuale e questo è l'indizio di una società che sta vivendo con grande problematicità questa nuova consapevolezza delle donne c'è un conflitto che non è come dire visibile che è sotterraneo ma è un conflitto fortissimo gli uomini hanno paura di questa evoluzione non la capiscono non la riescono a gestire e quindi reagiscono in questo modo ma anche le donne hanno paura di questa evoluzione hanno paura di non saperla gestire anche loro o di non sapere come fare per evolversi sentono che c'è la necessità ma hanno poi paura di questa evoluzione perché significa andare verso anche attitudini sconosciute evidentemente a loro quindi ogni volta il cambiamento produce questi scompensi ecco io penso che tutto questo deriva da questo cambiamento che è inarrestabile ripeto è un cambiamento inarrestabile malgrado tutto stiamo cambiando e questo è la parte positiva la parte negativa sono le reazioni di cui dobbiamo tenere conto evidentemente anche io sul web vengo attaccata ma io sai banno subito non mi metto proprio nessun problema senza pietà assolutamente non non mi interessa se c'è qualcuno che non è educato che non è cortese che non rispetta la net etiquette come si dice la net etiquette per me può anche uscire completamente non mi curo ecco di queste persone perché significa che sono di un livello basso e quindi non ecco non mi interessa averci un dialogo ecco da questo punto di vista credo che bisognerà sempre di più liberarsi di questi personaggi tossici che questi troll questa violenza verbale appunto sul web va sempre più controllata e anche eliminata da questo punto di vista sì e questo è importante anche perché spesso questi comportamenti sfiorano il reato bisogna saperlo ne parlavo la scorsa settimana con l'avvocato Nicol Monte che è proprio esperta in reati digitali quindi insomma dobbiamo anche essere consapevoli quando ci esprimiamo sul web che stiamo commettendo un reato e quindi dobbiamo mantenere gli stessi comportamenti che quelli nella come si dice real ti faccio un'ultima domanda perché ci avviamo alla conclusione però è una doppia domanda un po' più personale se mi permetti hai già detto una cosa che io avrei voluto chiederti sulla solidarietà femminile cioè tu sei riuscita col tuo hashtag a creare una rete femminile che poi non è solo femminile perché hanno aderito come dicevi a questo invito anche molti uomini però insomma hai creato veramente una bella rete di solidarietà femminile però io credo che non si possa dire che in ogni ambito della vita privata e professionale le donne siano propense sempre ad essere solidari fra loro e d'altra parte come dicevamo gli uomini invece soffrono un po' questa dinamica nuova e quindi tendono ad avere un pochino di timore nei confronti delle donne che assumono tratti di agency quindi vorrei chiederti nella tua vita normale insomma personale di interazione con uomini e donne questi due atteggiamenti li hai riscontrati e sono quindi anche le donne in qualche modo corresponsabili del perpetuarsi di certi stereotipi beh certo tutti noi abbiamo incontrato sia uomini contro che donne contro evidentemente le donne a loro volta sono vittime diciamo così di questo patriarcato sono intrise anche spesso di questo patriarcato non è facile liberarsene perché anche lì è una consuetudine come dicevi tu c'è un'abitudine sociale al patriarcato al maschilismo voglio dire e anche al considerarsi come dire al di fuori di certe dinamiche di solidarietà femminile quindi fa parte di quello ma devo dirti che vedo sempre meno sempre meno era molto più semplice anni fa vedo che adesso le donne hanno capito che fare rete sostenersi è qualcosa che poi alla fine paga paga per tutte ma paga anche per tutti ecco quindi io vedo che c'è un atteggiamento modificato un atteggiamento molto più attento un atteggiamento più solidale ma un atteggiamento anche più di reciprocità in un certo senso vedo che ci sono anche sui web sui social dei gruppi di donne che danno consigli ad altre donne in maniera totalmente disinteressata ecco questo è anche questa una novità in un certo senso è un po' quella sorellanza che c'è sempre stata che oggi secondo me sta ampliando appunto i vari settori in cui si dispiega benissimo io ti ringrazio tantissimo Patrizia per me è stato estremamente stimolante e vorrei dirti che in relazione a ciò che ci siamo dette ti stimo molto anche perché tu hai mantenuto nell'atteggiamento pur professionale quei tratti di empatia che sono davvero un valore aggiunto nelle donne questo dobbiamo dirlo quindi ti ringrazio tantissimo e ringraziamo anche la piattaforma insomma la rivista mediterranea che ci ha ospitato il direttore Gianmarco Morro io vi aspetto la prossima settimana grazie e buona serata grazie a tutti è stato un piacere grazie ciao grazie ciao ciao